194. I positivi al Covid in provincia di Ragusa. Tra i comuni Blei, Primeggia Vittoria con 92 positivi al coronavirus, ma vediamo nel dettaglio tutti i dati secondo l'ASP di Ragusa nei singoli comuni della provincia Blea. 20 a Modica, 4 ad Acate, 1 a Chiaramonte e Gurfi, 17 a Comiso, 3 a Gerratana, 9 a Pozzallo, 37 a Ragusa, 2 a Santa Croce e Camerina, 4 a Scicli, 92 a Vittoria e 0 a Monterosso-Almo. Sale a 11 il numero dei pazienti ricoverati per Covid in provincia di Ragusa. Di questi, 9 sono in malattie infettive all'ospedale Covid Maria Paterno Arezzo di Ragusa-Ibla. Una in terapia intensiva sempre all'OMPA, un altro paziente ibleo è invece ricoverato in malattia infettiva all'Umberto I di Siragusa. Nell'isola si sono registrati 334 nuovi positivi nel giro di 24 ore, 36 in più rispetto alla giornata di lunedì. C'è anche il record di tamponi, 8340, due le vittime, un 91enne a Catania e un 77enne a Palermo. Il totale dei morti sale così a 341.